Protesta con cariche della polizia a Napoli perché il governatore della Campania ha voluto anticipare la mossa romana con la chiusura anticipata dei locali, mentre nell'Alto Casertano cala invece il silenzio. Strade deserte nel pieno rispetto del decreto e perché no, per la paura del contagio e di multe salatissime. L'Alto Casertano ha dunque reagito così come testimoniano le immagini raccolte dalla nostra redazione che vediamo relative a Pierimonte, Matesi, Alife, ma anche da Liberi a Riardo e poi da San Potito Sannitico alla vicina Telese, Faicchio, Gioio Sannitica e Alvignano e gli scenari saranno ancora più spettrali se la paventata ipotesi del lockdown promesso da De Luca dovesse scattare davvero. Dal silenzio delle strade dell'Alto Casertano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it